Fabio Lissiola, prima comparsa per il nuovo presidente dell'Avis, vi schemi di RC, presentiamo quest'oggi il progetto Una goccia per la vita, ce ne parla un po'? Sì, buonasera a tutti. Avis Civitavecchia ha ipotizzato questo concorso al termine di un periodo lungo 12 anni dove Avis entrava nelle scuole per parlare di Avis. L'anno scorso, sfruttando il decreto legge sulla buona scuola e cercando di aiutare i ragazzi ad effettuare le ore di alternanza lavoro, abbiamo ipotizzato perché non far parlare di sangue i ragazzi stessi con i loro metodi visivi e con il loro linguaggio, in modo tale che a parlare di sangue fossero loro. Abbiamo ideato questo concorso dove hanno visto tutti gli istituti di Civitavecchia, delle classi di terze e quarti, partecipare. Ne sono uscite delle belle, veramente dei bei lavori. Oggi siamo qui a premiarli i tre migliori e a ringraziare tutti gli altri per aver contribuito a parlare di Avis. Ovviamente i ringraziamenti vanno per questo progetto, Avis li deve all'autorità portuale che è il padrone di casa che ci ha ospitato e alla cassa di risparmio di Civitavecchia che continua a sopportarci economicamente.